Di ciao saluta anche tu questa zebra piccolina che si chiama Sue Mamma, papà e la pistonna che insieme ai nonni vogliono bene a te Ho un amico in più e il mio amico in più è Sue Ho un amico in più e questo amico sei tu, Sue Non ne mangiare ancora Pazienza, almeno adesso Sue avrà il suo robot Sì Me lo puoi ritagliare per favore mamma? Me ne mancava solo una, ora potrò avere il mio robot Oggi è l'ultimo giorno per richiederlo Ecco qua Grazie mamma Elsie ha già completato la sua raccolta? Non lo so, ma mi ha detto che era alla fine Nonno, mi accompagni dal signor Zoe per favore? Ma certo Sue, andiamo Yippee Ops Grazie Poc Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci Che? Me ne manca una Non preoccuparti Sue, andremo dal signor Zoe a comprare un'altra scatola di cereali Bene, e allo stesso tempo posso prendere il mio robot Presco, andiamo Salve signor Zoe Salve, ciao Sue Oh, salve signor Zoe Cosa posso fare per te oggi? Prendiamo una scatola di cereali croccantini Me ne è rimasta soltanto una, ma su questa non c'è la figurina L'ultima confezione col robot l'ha presa Elsie poco fa Ci deve essere la figurina, forse è molto piccola No, ma questa è la figurina con il clown, puoi fare la raccolta Una bambola clown? Non la voglio quella, io voglio il robot Credevo di aver trovato tutte le figurine Hai anche quella della bisnonnina, ricordi? Di quale parli, nonno? Oh no, non mi dire Deve essermi passato di mente L'ho dimenticato Dimenticato? Nonno, presto! Dobbiamo andare dalla bisnonnina Arrivederci, signor Zoe Ciao Corriamo, nonno! Dobbiamo prendere la figurina Elsie non può aver già completato la sua raccolta Se avesse preso i robot, il signor Zoe ce l'avrebbe detto Credo che tu abbia ragione Bisnonnina! 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 Dov'è? Dov'è cosa? La mia figurina per il robot Il nonno dice che ne hai una per me Oh, quella! Perché non me l'hai detto subito? Ecco, ce l'ho proprio qui Così sta al sicuro Oh, e dov'è? E qui non c'è? Ma ci deve essere, bisnonnina! Mi dispiace, Sue, non c'è Chissà dove l'ho messa allora Fate tutti attenzione Dobbiamo trovare la figurina della bisnonnina Se no io non potrò avere il mio robot Oggi è l'ultimissimo giorno per ritirarlo Io vado a cercare in cucina Ti aiuto io, Bisù Io guardo in camera da letto Io continuo a cercare qui Lo farò anch'io Stai tranquillo, Sue La troveremo Lo spero proprio No, non è neanche qui Non credo sia qui dentro Vado a vedere se l'hanno trovata il nonno o la nonna Niente di nuovo? Mi dispiace, Sue Però, sai, la bisnonnina mette le cose importanti nei libri Ma ce ne sono così tanti di libri Ah, sì E non abbiamo ancora guardato tra i libri in camera sua Ecco, dentro mille centrini all'uncinetto non c'è E non è dentro all'automobile fatta in casa E neppure dentro tieni a bada il tuo giardino? Non è dentro a nessuno di questi libri Mi dispiace, Sue In camera da letto non c'era Ma mi è venuta un'idea Potrebbe essere nel bidone della carta Lo spazzino non è ancora passato Quindi c'è ancora dentro tutta la carta Grande idea, papà! Andiamo a vedere! Qui niente Lì sopra? Eccomi, Sue Ci guardo io lì No, qui decisamente non c'è Torniamo dentro casa Potrebbe essere nell'ingresso A volte lasciamo le cose sui ripiani Va bene, papà Scusa se non mi ricordo dove l'ho messa, Sue Non fa niente, bisnonnina Sicuramente la troveremo presto Ciao, Elsie Ciao, Sue Sono passata a vedere se avevi già preso il tuo robot No, purtroppo ancora no Mi manca l'ultima figurina La bisnonnina l'ha messa al sicuro Ma non sappiamo dove Tu hai già preso il tuo robot No, manca anche a me l'ultima figurina Ho paura che dovrò aspettare la prossima volta O devo andare con la mamma a prendere la posta Spero che troverai la figurina in tempo Ti saluto, Sue A dopo La posta Non si sa mai Non c'è niente Ora che ci penso Devo spedire delle lettere Sono nella mia borsa Te la porto io, bisnonnina Oh, grazie, Sue Eccola qui, bisnonnina Grazie, Sue Li metto qui Bisnonnina Qui sopra c'è scritto il mio nome Sul serio? È questa, Sue È la tua figurina Oh, ora mi ricordo L'avevo messa dentro una busta E dove sosse confusa tra le lettere Eccola qua, Sue Grazie, bisnonnina Ora devo solo andare a prendere gli altri biglietti in cucina E poi possiamo andare a ritirare il mio robot Oh, va bene, Sue Grazie ancora, bisnonnina Bene Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e undici Sono tutte! Oh, Sue Qui dice che servono dodici figurine per un robot Ma... Allora non ne ho abbastanza Quindi non lo avrò mai il robot Ciao, Sue Ciao, Elsie Anche tu non hai ancora preso il robot? No, mi manca sempre una figurina Solo una Anche a me Elsie Ho un'idea Ci servono dodici figurine per avere un robot Ma noi ne abbiamo undici a testa Sì, ma se tu mi dai una delle tue figurine Io ne avrò dodici Sono abbastanza per un robot in comune Vuoi dire uno per tutti e due? Sì, che cosa ne pensi? Penso che sia un'ottima idea Va bene Allora muoviamoci Nonno, abbiamo tutte le figurine Possiamo andare subito dal signor Zoe? Lei deve venire con noi Ecco qua Dodici figurine, signor Zoe Complimenti, Sue Finalmente le hai raccolte tutte Eccolo qua Questo è proprio l'ultimo rimasto Wow Grazie, signor Zoe Forza voi due Torniamo a casa Questo è il più bello robot del mondo Grazie a tutti per avermi aiutato tanto Specialmente tu, bisnannina È stato un piacere, Sue E grazie per aver aiutato anche me E ora che ce l'hai Posso tornare ai miei cereali preferiti? Oh no, nonno Adesso vorrei raccogliere le figurine per il clown Stavo scherzando, nonno Oh no, nonno Oh no, nonno Oh no, nonno